Un luogo suggestivo dove il tempo si è fermato e che merita di essere valorizzato e promosso affinché la sua natura e la sua storia incontaminata possano diventare fonte di attrattività turistica nel rispetto dell'ambiente. Si sta parlando di Roscigno Vecchia, sulla cui promozione si stanno concentrando in un percorso condiviso sia le istituzioni politiche che i privati, potendo anche avvalersi del supporto dell'associazionismo. Dopo la presentazione del progetto La Forma del Tempo, finalizzata a favorire la diffusione della presenza del piccolo e affascinante Borgo Senza Tempo anche al di fuori dei confini nazionali, ne svolto un nuovo incontro per parlare di un altro progetto che si vuole realizzare su Roscigno Vecchia, ossia un Ecomuseo, un progetto che anche in questo caso può contare sul sostegno della Fondazione Monte Pruno. L'evento di presentazione, che è stato anche occasione per aprire e sviluppare un dibattito sul tema, è stato organizzato dalla Proloco Roscigno Vecchia, con obiettivi non solo di valorizzazione culturale del borgo abbandonato, ma anche per pensare insieme a prospettive di sviluppo come l'Ecomuseo. Un discorso che è stato affrontato alla presenza di numerosi esponenti della politica, oltre che delle istituzioni, ed anche con rappresentanti di associazioni e dell'UMPLI Campania. Tra i realatori chiamati a confrontarsi sul tema, anche il presidente della Fondazione Monte Pruno, Michele Albanese, che sta lavorando accanto alla Proloco di Roscigno Vecchia, al fine di creare tutte le condizioni per la promozione del borgo e per renderlo anche un'importante fonte di economia locale. Ad aprire lavori, il presidente di UMPLI Salerno, Pietro Daniello, che ha anche moderato l'evento. A seguire si sono succeduti gli interventi del sindaco Pino Palmieri e del presidente della Proloco Roscigno Vecchia, Franco Palmieri, a cui sono stati affidati i saluti di apertura e che hanno evidenziato entrambi l'importanza ricoperta dal borgo abbandonato per i cittadini e per il territorio. Presente tra i relatori anche il direttore generale della BCC Montepruno e presidente della Fondazione Monte Pruno, Michele Albanese, che oltre ad illustrare il ruolo ricoperto dalla Fondazione nella progettualità inerente alla valorizzazione di Roscigno Vecchia, ha anche sostenuto l'importanza del sostegno economico e sociale e della collaborazione da parte di tutti per trasformare i progetti in successo. La Fondazione Monte Pruno ha infatti sottolineato albanese, crede fermamente nella valorizzazione dei piccoli borghi e delle loro tradizioni. Progetti come quello di Roscigno Vecchia sono fondamentali per mantenere viva la nostra memoria collettiva e per promuovere un modello di sviluppo sostenibile che valorizzi il territorio e le comunità locali. Il nostro impegno è quello di supportare queste iniziative non solo con risorse economiche, ma anche attraverso la promozione di un turismo culturale consapevole che possa trasformare i luoghi come Roscigno Vecchia in un punto di riferimento per le nuove generazioni. Michele Albanese ha inoltre voluto nuovamente sottolineare la disponibilità della Fondazione da lui presieduta a sostenere progetti di valorizzazione territoriale che coniughino tradizione e innovazione, contribuendo così alla crescita sostenibile delle aree interne. Presenti all'evento anche Luigi Barbati, presidente di Umpli Campania, Michele Cammarano, consigliere regionale delegato alle aree interne, Andrea Volpe, consigliere regionale e relatore della nuova legge sulle proloco, Francesco Bellomo, delegato del presidente del Parco Nazionale Cilento Vallo di Diana Alburni e Viola Cuomo, presidente del Consiglio della Comunità Montana Alburni.